coraggio ragazzi qual è il problema cioè dottor bro noi abbiamo dei problemi cioè non abbiamo mai voglia di fare niente cioè non facciamo più cioè ho capito ho capito ho capito cioè siamo svogliati capito cioè ma che musica mi ascoltate ragazzi cioè chiello che cosa state facendo ragazzi come se lo dobbiamo interrompere assolutamente voi mi dovete prendere un negra mano ragazzi grinta ci vuole grinta ma scusi come lo dobbiamo prendere e come lo dobbiamo prendere come lo dobbiamo prendere usami straziami vai e come lo prendere passione passione e di che rispondi stringimi a guarda grazie dottore davvero grazie ragazzi mi raccomando coez interrotto grazie